Oggi siamo qui a parlare di Open Innovation e Startup. Perché parliamo di Open Innovation e Startup? Perché la nostra associazione ha deciso di lanciare un nuovo chapter, un nuovo think tank, un gruppo di idee e di lavoro su queste parole, su questi temi. Lo facciamo per un motivo molto semplice. Uno degli scopi dell'InsurTech Association è l'innovazione. L'innovazione significa rottura, significa cambiamento di schema e Open Innovation e Startup significa proprio entrare in un mondo nuovo dove gli schemi cambiano. Perché lo facciamo? Lo facciamo perché il mondo delle assicurazioni è stato sempre un po' reticente al cambiamento. Uscire dalla zona di comfort è un qualcosa di antipatico, un qualcosa di difficile. Anzi, i pachidermi dei grandi gruppi assicurativi certe volte per loro natura sono rimaste nelle loro zone di comfort ed era anche una gioia rimanerci. Il mondo sta cambiando, anzi, dopo il Covid c'è stata una grande accelerazione di alcuni cambiamenti. Pensiamo al digital marketing che non è il marketing. Sono tutta una serie di tecnologie che vanno a impattare anche su un mondo tradizionale, quello delle assicurazioni. Allora, creare un gruppo di lavoro per far incontrare start-up da una parte e corporate dall'altro significa che entriamo in un momento in quale si devono rompere degli schemi e crearne altri nuovi. Questo lo facciamo perché le sinergie tra le start-up e le corporate sono un grande valore che forse in questo mondo dell'insurance rispetto ad altri mercati è ancora poco sondato. Allora noi pensiamo a creare proprio un sistema aperto, un sistema aperto dove anche delle idee, pensate alle start-up che nascono con due o tre idee che magari cambiano, che hanno bisogno di un anno o due anni di vita per entrare sul mercato, ma poi crescono con dei volumi impressionanti. Ecco, questo può contaminare il mondo corporate che per sua natura vive di processi, come è giusto che sia. Allora l'energia che c'è tra questi gruppi di innovatori e l'energia che deve essere rinnovata dal mondo corporate è un qualcosa che dobbiamo intercettare. Perché lo facciamo? Lo facciamo perché è uno degli scopi dell'associazione, perché è il futuro. Quindi io dico a chi ci sta guardando e a chi coinvolge l'associazione, cerchiamo di entrare sempre in più in contatto, contaminiamoci, uniamoci perché possono uscire grandi intelligenze, grandi business model, grandi processi anche da cose che non immaginiamo. Vi lascio con l'ultimo pensiero di questa associazione che secondo me avrà grande sviluppo perché entra come focus su temi molto importanti. Noi di Axieme, che siamo una start-up che io rappresento, abbiamo un motto che dice se vuoi andare lontano cerca di andare insieme a delle altre persone, se vuoi andare invece piano vai da solo. Significa questo, significa cerchiamo di unirci e cerchiamo di fare sistema e anche di rompere una serie di schemi con i quali per anni abbiamo sempre vissuto.